a questa trasmissione che come sapete lui dice che anche l'astrologia è una scienza allora tu come ti piace? ti piace l'astrologia? la segui? ci credi? si mi piace vai ragazzi io direi cominciamo a dire qualcosa di serio Max tu ci credi al giorno della settimana cioè dal lunedì primoniale poi collocamento la mani appassionata speriamo che faccia senso sta pianificando il weekend a differenza però che c'è questo mercurio e il sole nella vergine adesso hanno anche la venere propizia quindi la parte centrale della settimana fino al weekend è sicuramente la più brillante grazie ho altri progetti allora se le civa le latiche cosa lo avete visto? tieni Max questo te lo do caso mai volessi dire qualcosa mentre no prima togli di lavaglie però a noi donne interessa più a questa trasmissione che come sapete lui dice che anche l'astrologia è una scienza allora tu come ti piace? ti piace l'astrologia? la segui? ci credi? si mi piace vai ragazzi vabbè vabbè io direi cominciamo a dire qualcosa di serio Max tu ci credi al giorno della settimana cioè dal lunedì primoniale poi collocamento la mani appassionata speriamo che faccia senso sta pianificando il weekend vabbè allora a differenza però che c'è questo mercurio e il sole nella vergine adesso hanno anche la venere propizia quindi la parte centrale della settimana fino al weekend è sicuramente la più brillante quindi grazie eh ma ho altri progetti allora se le civa le latiche cosa lo avete visto? tieni Max questo te lo do caso mai volessi dire qualcosa mentre grazie no prima togli di lavaglie però a noi donne interessa più grazie grazie grazie